Grazie a tutti. La botte del vino Veneto è piena e l'abbiamo visto quest'oggi in questa bella presentazione della terza giornata del tritico vitivinicolo organizzata da Veneto in Cultura a Vepa e a Regione Veneto. I dati sono soddisfacenti in particolare per quanto riguarda la produzione e l'export. Vediamo. E' meglio quindi, sono sicuro che anche per il futuro ci abbiamo aumentato, si è concluso anche quest'anno e stiamo facendo il punto della situazione delle produzioni vitivinicole del nostro Veneto e come anche gli anni scorsi questo trend è in aumento, siamo i primi produttori sia per quanto riguarda la quantità d'uva sia di vino con un export importante di 1 miliardo e 800 milioni verso i paesi che per noi sono quelli più importanti come la Gran Bretagna, gli Stati Uniti, la Germania ma il nord Europa in particolare. Quindi sicuramente un anno di grande felicità per il mondo del vino. Abbiamo anche in aumento comunque il numero degli ettari, passiamo dagli 80 mila agli 87 mila quindi anche per quanto riguarda i produttori e i viticoltori un aumento della superficie e questo conforta molto dei dati che ci sono stati dati perché il vino diventa il primo prodotto agroalimentare del nostro Veneto. Avere 3 ettari di vino, di vite, significa avere anche un'economia importante e alle spalle avere un reddito importante. Però bisogna mantenerla questa posizione, non è facile? Beh io penso che anche per il futuro ci saranno queste posizioni se non in crescita. Noi siamo la prima regione italiana per produzione, per assistenza ai viticoltori ma anche per quanto riguarda tutto l'indotto. Quindi sicuramente le produzioni saranno in crescita, i mercati sono in crescita e la grande sfida è la promozione. Quindi a tutti i produttori, ai consorsi, alle cantine naturalmente che stanno dietro a questo mondo grazie anche all'assistenza della regione Veneto con dei fondi della promozione è andare a conquistare i mercati e mantenere le posizioni. Allora servono queste iniziative come il tritico vitiviniclo di Veneto Ricoltura? Certo, è stato molto interessante perché si sono visti tutti gli aspetti sia della produzione, sia della commercializzazione, sia della promozione sia naturalmente quella del trend futuro. Quindi gli interessati che erano qui chiaramente hanno avuto l'idea di dove questo mondo stia andando e quindi sicuramente ringrazio Veneto Ricoltura e tutti coloro che hanno istituito in primis il direttore Alberto Negro questo importante momento di confronto con i produttori e le cantine e i consorsi naturalmente di tutela. Oltre 13 milioni di quintali di uva quindi per il vigneto Veneto e Veneto Ricoltura con anche Regione Avepa fa il punto della situazione, è importante? Fa il punto della situazione in tre momenti importanti dell'anno alla fine della primavera facciamo le pre-previsioni e facciamo un'analisi fitosanitaria dell'uva, della vite e quindi abbiamo una prima indicazione di come si può muovere il mondo della produzione vitivinicola. Verso fine agosto, prima dell'inizio della vendemmia, facciamo le previsioni e questo dà già un dato qualitativo e quantitativo di quello che potrebbero essere i risultati dell'anno questo prepara i produttori, le cantine e gli stakeholder, gli interessati a questo mondo come si starà muovendo il mercato dell'uva nelle settimane successive il terzo momento come oggi è quello del consuntivo dove alla fine tiriamo i conti di come è andata effettivamente la vendemmia Ecco, dal suo punto di vista cosa trae da questa giornata? Cosa l'ha colpito particolarmente? Beh, intanto l'interesse che c'è attorno a questo evento quindi hanno partecipato all'evento sicuramente le maggiori cantine non solo della zona ma sicuramente di tutto il Veneto i produttori, le associazioni, quindi l'interesse che c'è sempre verso questo evento che è il 42esimo nella successione del trittico delle previsioni vitivinicole Tenere testa la sfida mondiale è sicuramente per il Veneto molto importante teniamo presente che se l'Italia è il secondo posto nel mondo nell'export del vino il Veneto da solo è al quarto posto nel mondo Devo dire che dobbiamo ringraziare a Veneto Agricoltura perché questi dati se non ce li avessimo appoluto da questa organizzazione probabilmente anche noi e i vignaioli saremmo senza dei dati importantissimi per dare avanti abbiamo constatato tramite questi dati che Veneto oggi e tra qualche anno rappresenta il 30% della produzione nazionale e questo la dice lunga dati confortanti anche sul lato dell'export perché anche lì rappresentiamo più del 30% del prodotto nazionale e quindi sono dati straordinariamente positivi per noi certo che bisogna essere sempre più attenti al mercato perché è un mercato che cambia tutti i giorni e quindi noi da sempre siamo pronti come consorzi a questa grande attività che è la promozione promozione vuol dire anche comunicazione, comunicazione dei dati ma anche promozione del prodotto stesso portando avanti non solo il vino ma anche il territorio territorio vuol dire storia nostra, storia che riguarda ogni vignaiolo e quindi attraverso un nostro bicchiere di vino andiamo a raccontare la storia delle nostre famiglie venete al momento organizzativo innanzitutto questo è di Veneto Agricoltura e siamo riusciti a mettere insieme qui all'Onigo i principali attori della produzione e della trasformazione questo è veramente importante inoltre sottolineiamo, oltre ai dati già presenti, la forza dell'enologia veneta un dato per tutti l'export pare a 1,8 miliardi che ci colloca tra i primissimi posti non soltanto a livello nazionale ma a livello internazionale e quindi questo è un valore prodotto non soltanto per il mondo agricolo e lo sottolineiamo ma per quanto ci sta a Monte, a Valle quindi per l'industria dei macchinari e anche per il momento commerciale quindi è veramente uno dei pilastri dell'economia del Veneto l'occhio è verso i mercati esteri Sì, aggiungerei anche un anno da un punto di vista qualitativo molto buono anche quest'anno, eccellente grazie comunque al bel tempo che ci ha fornito il buon Dio i mercati esteri sono fondamentali per il nostro gruppo come penso per tanti altri gruppi del Veneto siamo anche fortunati nel senso che comunque il gruppo Colli si rappresenta le maggiori doc del Veneto quelle più rappresentative e quelle che stanno andando di più lo sviluppo del mercato interno abbiamo i consumi che sono fermi però con i prodotti giusti che sicuramente anche il mercato interno soddisfazione ne dà Bianco, rosso o bollicine? Beh, le bollicine ormai sappiamo hanno fatto il botto però anche i bianchi e i rossi danno delle buone performance Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille!